Buon day, io sono barbuto Spera, spera due secondi, io non faccio un video da due anni Che cazzo devo fare la intro? Tu ti fai la tua intro e io che cazzo dico? Eh no, io sono Jack Questa la metterò, lo sali? No Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba E io sono Jack E ho gli occhiali Benvenuti nella serie più divertente, più... Eh... Sul mio canale Oggi andremo a reagire a dei TikTok Ma non a dei TikTok... Qualunque Ai TikTok dei... Collegiali I mitici I mitici I TikTok Alle tonnole Allora, qua abbiamo preso una compilation Ci abbiamo nuovi TikTok collegiali collegio 4 Andiamo, andiamo, andiamo Fai fare le risate, va? Siamo carichi? Allora, io non so i nomi, tu? Sapevo manco cosa fosse il collegio Fino a due minuti fa Vabbè, adesso non esageriamo Vedo solo un nano adesso Allora Vabbò, partiamo Qua sono tutti insieme, eh? Ma lui è seduto o è alto così? Non lo so Provate a dircelo voi Secondo voi è seduto No, vabbè, questo qua Lui è davvero fatto così Comunque, secondo me Guarda, tutti insieme, eh? Guardalo, sempre il nano che fa pure così Cazzo Sì, ma qua non tuerca nessuno, ragazzi Bisogna twercare Uh Tuerca trova Uh 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 È la concia dell'allora Beh Mi sa che stanno insieme Come fai a starci? Ma il collegio è recitato Il collegio è recitato? No No Però prima di dire no ha dato Uno No No Quindi si stanno dicendo da soli Infatti si vede che siete dei cani a recitare In effetti 3 hours later Abbiamo detto Il cibo è veramente così Come lo vedete in tv 3 hours later Ancora una finita Giorni e notte Non c'erano giorni di pausa Giorni di pausa Questo perché essendo improvvisato Basta Oh Ballare Ballare Sempre il nostro audio di Ugo 2, 3 La concede all'ora 1, 2, 3 Ma a Chentina E' gestita E' no E' no Mi hanno pagato Dite tutte le stesse cose Dentiche Era nel contratto? Mi smodete? Però lei l'avevo già vista Questa Non è una cosa Con le sopracciglia strane Tutti guardano come stanno muti Lui Nella prima puntata C'erano i capelli Quei miei La personalità Dov'è la personalità? Questa è personalità Senza personalità Vi vedi? Ragazzi comunque Vi dov'è essere bravi Non siete portati Non siete portati Ma nemmeno io Nemmeno lui Ma qui non lo facciamo Fai balletti? Da quando? Vuoi vedere un balletto? Vuoi vedere un balletto? Se almeno spettiamo sta cosa Questa è male Questo è male Questo è male Sono loro tre Ci sono L'importante è che c'è Ah no quella lì no Quella lì è quella che mena L'importante è che c'è Ah ecco perché è stata espulsa Allora Perché picchia È stata espulsa? Sì Ho visto oggi su fanpage Io non sapevo neanche cosa fosse il collegio Fino a due minuti fa Cheat Vabbè ma Gossip 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 Allora perché questo Quattico in TikTok Come sapete Alcuni TikTok hanno bisogno Di occhiali da sole Ecco l'occhiale da sole Questo ha bisogno Di occhiale da sole Di persone Di che? Mi hai permesso? Fernando entra pure Sono già entrato Cosa fai da queste parti? Niente Il passato di qui E come mai? Stavo facendo una passeggiata Abito a 200 km Una rucca a passeggiare Mi hai permesso? Se mi ricorda un mio amico Di cui non farò nome Daniele Montani Scusami Ma visto che le compilations su YouTube sono finite Siamo andati a ricercarli direttamente Noi Senza guardarli Ininteressati Senza guardare Siamo andati ad occhio Quelli che ci ispiravano Ok Vai Partiamo con George George Così sapevo anche George Ciupilano Ciupilano Cosa farai adesso? Niente Nella Nella Ma che TikTok sono? Che TikTok sono? Guardiamo questo qua Il capo è tornato Cosa fa? Cosa fa? Oddio Oddio Eccolo Oh ma il capo Mi piace questo TikTok E avanti Avanti Oh questo è difficile Facciamolo noi Adesso proviamo Vedi questi sono italiani Questi Questi Complimenti Complimenti Proviamo Vai Allora Com'è che era? Tu fai Così Questo è il mio figo Don One No In Do We Strong Ok Allora Adesso andiamo sulla playlist Di quelli di Jack Olè Olè Selezionati da me Abbiamo il nostro Giulio Giulio Maggio Mascotto del canale Giulio Luglio Quando vuoi Invitato qua in mezzo a noi Video insieme Quando vuoi Andiamo Secondo me a lui Ci gli serve uno sgabello Vabbè se lui si siede qui Alle spalle ci arriva Ecco non sono Ti voglio bene Giulio Senza offesa È della gang gang Tu non sei È della gang gang Ma le potte Sai che però Ma te Ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha Ce l'ha Davanti a me Di notte avrei paura Ti giuro Grande Giulio Mi piace Te sei quello con più personalità Dopo Giorgio Lui è un altro del collegio Eh lui è sconvolgico Ma perché Perché lo sta facendo Cosa sta succedendo E ricomincia Oh ma tutti i loop sono i tuoi No Le ha leccato Il naso Come le ha leccato il naso Ma lo sono perso Riguardiamolo Oh mio dio Il naso Riguardiamolo Questo video termina qui Un po' diverso dal solito Di solito reagisco a ragazze A ragazzi Ragazzi otto Ragazze otto Balletti di ragazze Balletti di ragazzi Oggi collegiali Cosa abbiamo reagito Collegiali Fateci altri tiktok Perché io voglio reagire ancora Mi raccomando Voglio divertire Giorgio Più tiktok Giorgio Giulio Oppure te Tutti e due qui Vogliamo più tiktok di Giorgio Di Giorgio E di Giulio Insieme Soprattutto di Giorgio Giorgio Più in palestra Così prendo spunto Più in video di dove ti togli la maglietta Così mi motivo E mi emoziono Perché tu Questo me lo fai ba Ciao ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao